Appassionato di equitazione, formatosi come cantante di opera lirica. Ebbe esperienze nel mondo del cinema hollywoodiano. Debuttò in teatro nel 1928 in una rappresentazione di Rigoletto a Previglio. Cantò poi l'anno successivo nei Puritani. A Milano, la sua attività di cantante lirico si sviluppò. In Italia, in soli tre teatri, nella stagione 1927-1928, per il pubblico della sua città natale, Verona. Cantò solo in fine di carriera. Nel 1950, nella Madame Butterfly, incise per la Victory e per la Columbia Records, su disco sono state fissate alcune registrazioni effettuate durante i suoi concerti tenuti tra il. 1937 ed il 1948.